Salve ragazzi, un saluto a tutti. Scusatemi per il ritardo ma sono stato un po' a guardare le interviste e a guardare un po' di post partita prima di registrare questo video. Sono molto contento questa sera perché portiamo a casa il primo trofeo della stagione. Comunque benvenuti in questo nuovo video. Sono qui a parlarvi quest'oggi del post partita, del primo trofeo vinto della Juve in Supercoppa Italiana. La Juve batte il Napoli per 2 a 0 a Reggio Emilia e si conquista l'ulteriore Supercoppa Italiana che aggiungerà alla propria vacheca. Sono molto contento, primo trofeo d'allenatore per Pirlo. Vi dico la verità, non avevo tante aspettative anche dopo il post partita le parole di Giorgio Chiellini che c'erano state dopo la partita dell'Inter. Una brutta prestazione però siamo riusciti a portare il primo trofeo stagionale a casa e quindi per questo sono veramente tanto tanto contento. Detto questo direi che possiamo parlare della partita. Intanto ho sentito molti giocatori dire che il terreno non era così giocabile in quanto non ho ben capito se per la condizione del campo o per la nebbia effettivamente si vedevano anche intanto nella Rai hanno messo questa nuova telecamera molto molto interessante e vedremo se sarà poi utilizzata anche successivamente in altre partite. Comunque sì, molti giocatori, ho sentito Cristiano Ronaldo, ho sentito anche se non sbaglio Gattuso alla fine nel post partita che ha detto proprio che il terreno si faceva fatica a giocare. Detto questo, la partita nel primo tempo è stata equilibrata, diciamo che in generale la partita è stata equilibrata, nel secondo tempo siamo venuti, abbiamo giocato meglio noi, poi il Napoli ha reagito cercando di trovare il gol non riuscendoci. Nel primo tempo diciamo che siamo partiti bene, abbiamo imposto un grande possesso palla purtroppo creando pochissime, poche occasioni e c'è stata quell'occasione del Napoli con un colpo di testa di Lozzano che stava, in cui Scesni ha fatto un intervento veramente fenomenale per salvare il risultato e quindi questo è stato veramente un grande intervento perché altrimenti saremmo andati sotto di un gol già nel primo tempo e non sarebbe sicuramente stata una cosa positiva. Oltre a quell'occasione del Napoli nel primo tempo non ci sono state tantissime occasioni, un grandissimo ritorno di Quadrado ci voleva perché veramente Quadrado oggi si è fatto sentire il suo ritorno, quindi sono molto contento che sia tornato, chissà se fosse tornato già con l'Inter se sarebbe cambiato qualcosa, non lo sapremo mai, comunque veramente Quadrado grande ritorno in attesa anche di Alexandro e di Dybala che tra l'altro Dybala si è visto anche festeggiare insieme a De Miral che si è infortunato negli ultimi giorni, nell'ultimo giorno proprio in vista della preparazione per la partita quindi si sono visti fuori dal campo a bordo campo a festeggiare. Nel secondo tempo siamo nuovamente partiti meglio noi, abbiamo creato subito delle occasioni, Bernardeschi è entrato al posto di chiesa per un infortunio sperando che non sia successo niente e Bernardeschi devo dire che dopo le brutte prestazioni che stava facendo in questo periodo oggi l'ho visto entrare molto bene, quindi Bernardeschi GG per lui, ottimo entrata, ottimo ingresso, veramente contento che sia entrato così bene e è partito subito cercando di trovare il gol praticamente immediatamente all'inizio del secondo tempo, Ospina salva praticamente sulla linea, non era assolutamente gol perché la palla non era entrata però si si è fatta sentire subito la sua presenza. Poi sì grazie alla sua agilità, grazie ai suoi scatti ha riuscito a creare comunque della superiorità nell'area del Napoli e abbiamo trovato proprio su un cross di Bernardeschi, su assist diciamo così di Bakayoko, il gol che porta Cristiano Ronaldo a diventare o almeno così molti dicono il marcatore più prolifico della storia del calcio superando Beckham e mamma mia che giocatore veramente tra l'altro la mia maglietta non so se ve l'ho mai detto ma è proprio di Cristiano, veramente una grande fortuna avercelo in squadra e quindi troviamo il gol proprio su cross di Bernardeschi e gol di Cristiano e dopo questo praticamente la partita diciamo si fa molto più intensa e molto più ravvivante, il Napoli inizia a giocare, a un certo punto Gattuso mette una formazione super offensiva praticamente centrocampisti non ce n'erano praticamente più, anche i cambi mi sono sembrati positivi, è entrato Morat ed è entrato Rabiot, Morat al posto di Kulusevski e Rabiot al posto di Bentancur che ho sentito che si era fatto del male anche lui quindi speriamo anche lui che non si è fatto nulla di male. Detto questo comunque siamo stati bravi dopo che il Napoli ha incominciato ad attaccare, a tenere botta, abbiamo comunque amministrato quasi noi per tutto il secondo tempo la partita ad eccezione verso la fine, verso il novantesimo quando Scesni fa un secondo intervento veramente providenziale che salva il risultato e c'è da parlare anche del calcio di rigore, il calcio di rigore c'era, era completamente netto, l'arbitro ha fatto bene a giudicare appunto a dare il rigore perché era netto, McKennie tira proprio un calcio a Mertens se non ricordo male ed è rigore netto, per fortuna Insigne ha sbagliato il rigore, io stavo già pensando ecco niente, tocca andare supplementari ai rigori, per fortuna Insigne sbaglia che tra l'altro gli ho visto tirare dei veramente dei bei calci di punizione all'incrocio dei pali, questa volta ha sbagliato, ci è andata bene. Poi c'è stato quell'ultima occasione che ha avuto il Napoli praticamente alla fine, al novantesimo dove Scesni è stato veramente bravo a difendere il risultato, sul calcio di rigore Scesni non ci sarebbe mai arrivato perché l'aveva completamente spiazzato ma per fortuna Insigne spara fuori. Detto questo la partita poi si è conclusa con un gol di Morata su un bello suo assist di Quadrado che come detto la sua presenza si è fatta veramente sentire in positivo, chiudiamo la partita e in quel caso lì ci portiamo a casa l'ulteriore supercoppa nel nostro palmaresso. Detto questo speriamo che questo trofeo sia l'inizio di questa nuova epoca per Pirlo, che sia l'inizio di tanti come ha scritto anche il presidente Agnelli che non è potuto essere presente alla partita ha detto che il trofeo più bello è sempre il prossimo come è giusto che sia e speriamo che questo dia fiducia per appunto tutti i vari obiettivi che possiamo ancora raggiungere all'interno di questa stagione. Abbiamo sentito anche le parole di Cristiano Ronaldo sentendo che lui secondo lui lo scudetto è ancora completamente possibile, vedremo che cosa succederà, intanto noi ci portiamo il primo trofeo stagionale e vinciamo praticamente a questo punto per dieci anni consecutivi, sono dieci anni consecutivi che vinciamo un trofeo. Detto questo testa la prossima partita, se non ricordo male dovrebbe essere contro il Bologna, quindi testa adesso la prossima partita, io vi mando un saluto e una buona notte, ci vedremo con i prossimi post partita del Modena e della Juve ed eventualmente magari qualche video per qualche ufficialità di mercato, adesso staremo a vedere, io vi mando un saluto, una buona notte e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao a tutti!